Ore di campione pieno di energie Il sport di Ceno Game ci porta in una nuova dimensione Con passione e coraggio siamo pronti a brillare E Studio 7 e TV ci guida ad ogni passo Ad ogni sfida da affrontare Con orgoglio e con onore siamo pronti a dare il nostro meglio Con Pietro come guida Il nostro spirito non si rende mai Sport di Ceno Game e Studio 7 e TV L'intervista di Pietro, un cuore di un campione Ogni atleta ha una storia, ogni momento è un'emozione Con coraggio e con determinazione Studio 7 e TV e Sport Piceno Game presentano L'intervista di Pietro, ospite della punta Benvenuti alla nuova puntata Abbiamo ospite una cantautrice, 9 E a questo punto la prima domanda sorge spontanea Se dovessi descrivere chi è 9 per chi non ti conosce Come la descriveresti? Ah, bella domanda Partiamo subito da una domanda facilissima Allora, 9 Beh, diciamo che sicuramente 9 è Roberta Quindi io sono all'anagrafe Roberta E sì, ho scelto Ho voluto comunque un nome d'arte Ma assolutamente sono Ci tengo a dire sempre che Roberta e 9 sono la stessa cosa Quindi non c'è il personaggio Non c'è l'alter ego Semplicemente quello che scrivo è quello che sono Circo, quando scrivo quindi 9 Cerco di essere una persona sempre sincera Anche nei confronti di se stessa Quindi cerco sempre di scrivere quello che sto vivendo Quello che provo E appunto nel modo più onesto possibile Quindi direi questo A questo punto andando parliamo dell'ultimo singolo Gocce Ma gocce che poi sono singole, separate Ma in fondo si ritrovano sempre nello stesso punto O il mare Esatto, è nato tutto da lì Da questa frase Quando dico siamo gocce Destinate a perderci Per ritrovarci come la pioggia Come il mare Perché in realtà è così Cioè quando le gocce Cioè è nata Era zanzi, barbi di vacanza È nato tutto da lì E guardando appunto il mare Con questo orizzonte Sai quando non si vede Quando c'è quella linea in fondo Che non si distingue appunto il cielo dal mare E ho pensato a quante volte Le gocce e il mare Si uniscano nell'arco di tempo E quante volte si dividono Quindi è proprio un È un po' come le persone Che a volte le troviamo Poi le lasciamo Poi magari ritornano E quindi è nato tutto così Tutto da questa figura E questa immagine Tra la pioggia e il mare E invece la copertina Di questo singolo Che noi vediamo Da chi nasce l'idea Di questa semplicità In fondo Ma nello stesso tempo Rappresenta un po' Tutto il brano forse Eh sì Guarda questa copertina È nata Nella mia E della mia art director Che ci siamo messi lì A pensare Cosa fare Ma in realtà Volevamo una cosa Appunto semplice Molto Molto pulita E Io volevo che ci fosse il mare Che è il mio elemento Preferito Da sempre E E quindi è nata così È nata semplicemente così Ero a Genova Io sono nata e cresciuta a Genova Quindi era a casa Quella era una spiaggia Spiaggia di Bocca d'Asse Una delle più famose di Genova E siamo andati all'alba A scattare queste foto Quindi è nata così In modo molto semplice Questo brano poi anticipa In realtà Anticipato sotto vuoto Che Penso che non ci sia Un legame tra i due brani Ma in fondo Possono essere rappresentati Nella stessa linea Di idee No assolutamente sì In realtà Sono poi un po' collegati A tra di loro C'è sempre questo Questo filo conduttore Della Di questa ricerca Appunto Della Della Interiore Ecco Questo viaggio Che Che ho un po' fatto E che sto facendo Perché poi Sia sotto vuoto Che gocce Faranno parte Di un disco Che è in fase di scrittura Di produzione E quindi è un po' Uno scavare dentro di me Un po' raccontarmi Raccontare quello Che sto vivendo Ma raccontarlo in primis A me stesso E quindi sì In un certo senso Sono legate Poi la produzione È comunque la stessa E quindi Ci piaceva l'idea Ma anche con la copertina Comunque c'è sempre Questo contorno bianco Ci piaceva Di tenere quel filo lì E invece Nel Tuoi testi Prisci a essere Un po' Pi' longeva Come il classico italiano Dove la necessità Di descrivere Fino a ogni dettaglio Oppure un po' Come l'inglese Dove Non esprimi tutto Ma lascia un pochettino A chi ascolta Di immaginare Cose diverse Ovunque Trovare qualcosa in sé Che forse neanche tu Hai immaginato Che ci fosse Guarda In realtà Un po' tutte e due Nel senso che Io sono una Che ama parlare Ama scrivere E scrivo anche Forse troppo Nel senso che Quando scrivo un brano Uso sempre mille parole E infatti anche Il produttore Con il quale sto lavorando Che è Ziba Mi dice sempre Asciuga Cioè asciuga Togliamo Togliamo Quando è troppo Bisogna togliere Quindi sì Mi piace raccontare Ovviamente mi piace Che si capisca Di cosa si parli Ma c'è sempre Quelle E' anche bello Che ci sia sempre Quella Non dico quel velo Però quella cosa Di dire ok Ognuno ci si può Rivedere in qualche modo E quindi Quindi sì Quindi una via di mezzo Diciamo Ci sto lavorando Su questo Nel 2021 Hai fatto anche un EP Già Quindi sarà Il prossimo lavoro Sarà un secondo EP Oppure sarà un disco Con nove Dieci tracce Sarà un disco Sarà un disco Di otto tracce Otto tracce Non riusciva a dire Otto tracce Di otto tracce Quindi sì Rispetto alle EP Che è stato di cinque Questo sarà Sarà un vero disco Cioè sarà un disco E invece le emozioni Suonare al vivo Ma soprattutto Le emozioni In questo caso Prima dell'emozione Del vivo Qual è stata La sensazione Che hai visto Negli occhi Più che sentire Le parole Di quando hanno Ascoltato Per la prima volta Gocce Beh Comunque è sempre bello Cioè quando Quando le persone In qualche modo Vengono catturate Da quello che descrivi Quello che fai E magari si ritrovano Anche Nel racconto È bello Cioè anche se Solo una persona Ci si ritrova In qualche modo Da cantatrice Ti dico che è Una bellissima cosa Una bella emozione I tuoi brani Li scrivi Tra me Penso che Utilizzare Pianforte Per impostare Oppure Usi altri strumenti No Generalmente Lavoro con lui Che è qua vicino È proprio lui E poi dipende Sì diciamo che Partono così Possono partire Anche da beat Però generalmente Quando scrivo La prima La prima bozza È sempre Piane voce E invece L'emozione Suonare dal vivo Le sensazioni Che si provano In fondo Quando c'è un pubblico Inizialmente È silenzioso Ma poi Si anima Perché Si trasmette Quella energia Anche se poi Sei concentrata Con i brani Sei concentrata Tutto Però Tu Che poi tu Li trasmetti Quell'energia A quelle persone Che stanno ascoltando Qual è la tua Sensazione Che provi Vabbè È una sensazione Bellissima Dico sempre Perché è una boccata D'ossigeno Cioè quando c'è La possibilità Di fare live È veramente bello E come detto tu È vero Uno dai Riceve Cioè Le energie Le ricevi Quindi è È bello È un Un bello scambio Ecco Mettiamo così E l'affermazione Ti hanno fatto Qualche citazione O anche frasi Del tuo brano Oppure ti hanno detto Guarda mi sono ritrovato Oppure basta A volte Lo sguardo Che c'è di fronte Di quelle persone Che hanno ascoltato Il brano E ti trasmettono Quella sensazione Che effettivamente Li vedi rilassati Oppure un pochettino Con l'occhio lucido Però Quel momento La tua sensazione Direi forse Ho fatto qualcosa Che è piaciuto O comunque Ha dato emozioni Sì Assolutamente Cioè poi è un po' Un po' tutto quello No Quando Quando scrivi Ovviamente Dico sempre Che è un po' Un'esigenza E una voglia No Di farlo E quindi parte sempre Da te stessa Cioè parte da me La scrittura E quindi Il racconto Sempre personale Poi quando però Diventa Diciamo di tutti Quando esce Poi diventa Ovviamente Di tutti Quando qualcuno Ci si ritrova O si emoziona O poi dice Guarda mi hai lasciato Appunto Quel tipo di emozione Mi ci sono ritrovata In quella frase È bello Ripeto che è molto bello E Dicevo che torna Un po' indietro Già torna indietro tanto E ci sono artisti In cui Comunque Involontariamente Ti porti un po' Il modo Di Pondo Siamo un po' Tutti fan Tutti ascoltiamo Un po' In musica Però ti porti Dietro con il modo Di lavorare Oppure Un po' Di impostare i testi Oppure Impostare come L'armonia Che Involontanamente Poi hai fatto Tuo Perché non hai rubato Ma hai adattato Un po' Un po' Un po' Di lavorare Nel tempo Ma guarda Allora Non ho davvero Infatti questa qua È sempre la domanda critica Non ho un artista Ad oggi Uno Di riferimento Mi piace ascoltare Cioè ascolto 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 Anche Genere Diversi Io sono cresciuta Con i cantautori Genovesi Cioè quando ero piccola Io sono appunto Di Genova Quindi ho Sicuramente Quel cantautorato Lì Degli anni Ottanta Sistanta Me lo porto Dietro Cioè io dico sempre Che Geno Paoli Per me è Cioè ci sono cresciuta Ok quando ero piccola Soprattutto l'ascoltato Quando ero piccola Cresciuta meno Sì Però Me lo porto Come bagaglio Grande E quindi ecco Ti direi tutto quel filone lì Ad oggi Devo dirti la verità Non ascolto tanto Cioè ogni tanto Mi capita Ma non ho più Quegli ascolti lì Però Diciamo che come bagaglio Sicuramente Quello mi ha dato tanto Cioè quel filone lì Mi ha Mi ha influenzato tanto Il fatto di dover raccontare Una storia Ecco quello E invece c'è differenza Tra nuova cantautrice E nuova fan sotto un palco Che ascolta un carciese artista Esiste una differenza Se per caso Oppure In fondo Vivi la musica In modo indifferente Quindi Per te Stare sotto un palco O stare su quel palco Ti danno le stesse emozioni No beh Ovviamente Nove artista Sul palco E nove Diciamo Da 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 Spettatrice Oddio No Non sono neanche così diverse In realtà Perché Quell'adrenalina Io la sento sempre Cioè anche quando sono Sotto Quando vado ad ascoltare Qualcuno C'è sempre quella Appunto Quell'adrenalina E anche Devo dirti Quella voglia di dire Cavolo Voglio andare sul palco Voglio cantare anch'io Voglio suonare anch'io Quindi Me le godo entrambe In modo diverso Però in realtà Poi alla fine Alla fine Sono legate Anche queste due Le due esperienze Diciamo A questo punto Facciamo un piccolo gioco Se avessi un pulsante Come il famoso pulsante Per navigare La macchina Di ritorno al futuro E ritornare a un concerto Nello spazio e nel tempo Perché non esiste Ti piacerebbe salire Su un palco Con un artista In particolare O quel concerto In particolare Se ti piacerebbe salire E con chi Eh Bella domanda Molto bella Eh Ci sto Sto pensando Dove andare Ma Vabbè sicuramente Allora facciamo così Rimango legata A quello che ho detto prima Quindi tornerei Tornerei indietro Quindi magari anni Anni settanta Anni 60 Settanta Quindi con Quella scena Genovese Di cantautori Giovani Quindi Per dire Lo ripeto Lo rinomino Visto che ho nominato Prima Un Gino Paoli Ecco Sarei curiosa Mi piacerebbe condividere Il palco Magari con un artista Così In quegli anni Quindi Dove si respirava La musica In modo totalmente diverso Quindi dove non c'erano sequenze Dove non c'era Dove non c'era autotune Dove non c'era Non c'era Ma non c'era neanche Questa costruzione No? Di cose Quindi era molto 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 pulito Molto Molto Semplice Ecco Tornerai indietro E magari qualche trasmissione Degli anni 60 70 O qualche concerto Lo farei volentieri Sarei curiosa Di vedere Com'era davvero Secondo te Il Queste piattaforme Sono sicuramente Un vantaggio Per alcuni Giovani artesi Ma c'è il rischio Che poi In realtà Si perdano In questo marasma Della Continua uscita I brani Che poi Il release Posso andare persi Se Pochi Conoscono L'artista Sì Sono Sì Secondo me È così C'è veramente Tanta Tanta musica Che esce ogni settimana Ed è veramente Si è Per donare anche Al mio amato male Si è veramente Un pesciolino Dentro Un oceano Cioè Non è Non è facile Non è facile Nonostante magari uno Ovviamente provo a farlo sempre al meglio No? Però Non è facile Uscire Farsi Magari Far ascoltare la propria musica A più persone Cioè Sì La propria Fum days Però Sì Perché c'è tantissima musica nuova E quindi Assolutamente C'è il rischio Che si perde Anzi Spesso Spesso capita così Quindi Sì Invece L'intelligenza artificiale In questi calcoli Matematici Che ormai È diventata musica È diventata matematica In assoluto Oltre che Di base La matematica È la base Della musica Però Quanto può essere Utile O dannosa O una via di mezzo Questa intelligenza Ma Allora Secondo me Bisogna Cioè Dannosa no Non direi Nel senso che Dovremmo imparare Penso Ad adattarci Cioè A convivere Con l'intelligenza artificiale Io penso che ad oggi Non può togliere Ancora Almeno Mi auguro Ancora per tanti anni L'aspetto umano Quindi Il fatto di Magari scrivere Una canzone Quella Quella parte di sentimento Non la può percepire Ad oggi Almeno Sicuramente ci arriverà Ad oggi Da come la stiamo vivendo No Però Può aiutare Cioè Ci può dare una mano Anche magari Che ne so Su strategie Su Insomma Su tanti aspetti Quindi non la vedo Devo dirti In modo negativo Ad oggi Stiamo testando Cioè Sto capendo anch'io Un po' Come Come funziona E tutto come tutti Penso E la domanda Più semplice Che ti faccio Il disco Che uscirà In otto tracce Sarà Solo in digitale O Come per noi Retro Sarà anche In formato fisico Guarda Non lo so ancora Cioè Devo dire Che stiamo finendo Di scrivere Stiamo finendo Quindi sicuramente Se ne parlerà Per il 2025 Sicuramente Non sarà Inizio 2025 L'uscita Primavera Inoltrata Penso Poi capiremo Cosa succederà A me piacerebbe Fare delle copie fisiche Ma già Del primo Del primo EP O comunque Una tiratura L'ho fatta Quindi Valuteremo Ma Ti direi di sì Adesso Vedremo Ma Averla In mano Per me È sempre È sempre È sempre Bello Magari poche Copie Però Però sì Mi piacerebbe Molto E a questo punto Navigando Con il nostro Belliero Alla ricerca Di una persona Che siamo Forse noi In questo mare Noi intanto Ti ringraziamo Per essere stato ospite Quindi Grazie a voi Ci diamo appuntamento Per i prossimi lavori Così ci racconterai Come procede Questo Questa tua ricerca In fondo Ognuno Siamo alla cerca Continua Di noi stessi E prima o poi Ci ritroveremo O Sulla spiaggia A passeggiare Ci ritroveremo Sì sì È vero Ci ritroveremo In qualche modo E a questo punto Ci mancano Due cose fondamentali Gli indirizzi Dove poterti raggiungere Poterti raggiungere E I saluti finali Ok Guarda Mi potete seguire Su Instagram Che sono 9.music O su Spotify Appunto Da Instagram Potete arrivare Al mio canale Spotify Se scrivete 9 Gocce Mi trovate E Quindi Questo è Io vi ringrazio tanto È stato veramente Un piacere Stare in vostra compagnia Quindi grazie Grazie a chi avrà voglia Di ascoltare Quest'intervista E niente Una saluta a tutti Che energie Il sport Piceno Game Ci porta In una nuova dimensione Con passione Coraggio Siamo pronti A brillare E studio Sette TV Ci guida Ad ogni pass Ad ogni sfida Ad affrontare Con orgoglio E con onore Siamo pronti A dare Il nostro Meglio Con Pietro Come guida Il nostro Spirito Non serve Niente Mai Sport Piceno Game Studio Sette TV L'intervista Di Pietro Un cuore Un campione Ogni atleta Una storia Ogni momento Un'emozione Con coraggio E con determinazione Studio Sette TV E Sport Piceno Game Hanno presentato L'intervista Di Pietro Ospite Della punta Doce nell'oceano Doce nell'oceano Doce nell'oceano Doce Doce Destinate a perdere